La vita è un bene prezioso da salvaguardare con comportamenti prudenti, soprattutto quando si è alla guida. Ne sono convinti i membri del Rotary Club Napoli Castel dell'Ovo, che hanno promosso in collaborazione con l'assessorato alle politiche giovanili del Comune una campagna di sensibilizzazione sull'etica del bere. Il progetto La vita è un gioiello prezioso indossalo si rivolge ai giovani e ai proprietari di locali e discoteche per informarli sugli effetti negativi provocati dall'abuso di alcol. Questo progetto Etica del bere vuole essere un incubatore nel quale inserire una serie di idee che tendono a demolire la pill che ha l'alcol sui giovani, a far capire ai giovani che l'alcol non rende persone positive, che l'alcol distrugge, che l'alcol lascia degli effetti indesiderati che al momento i giovani non percepiscono. Già impegnato sul tema della sicurezza stradale con attività di educazione nelle scuole sui rischi derivanti dalla guida in stato di ebrezza, il Comune di Napoli ha appoggiato l'iniziativa sul bere etico, promuovendo il concorso di idee per la realizzazione del logo della campagna. Presentato in sala giunta anche il manifesto di adesione per i titolari dei locali che scelgono di sostenere il progetto, impegnandosi ad offrire una consumazione analcolica al guidatore del gruppo. Abbiamo collegato quello che è nella quotidianità di tanti ragazzi, andare a ballare, decidere il sabato, il venire di sera, di andare nelle discoteche, nei locali della nostra città, ha dei valori, il valore del rispetto di se stessi e soprattutto degli altri. Abbiamo le prime discoteche della città di Napoli, che sono l'Arenile e il Duel, che sposano questo progetto. Quindi in questa sede lanciamo l'appello, l'appello a tutti gli operatori della notte della città di Napoli a sottoscrivere questo manifesto che è stato fortemente voluto dal Rotary Club Castel dell'Ovo.